750 posti di lavoro a rischio, scarsa sicurezza sui posti di lavoro, troppi incidenti e infortuni. Si rischia una vertenza a Teramo. A denunciare questo stato di cose sono i rappresentanti delle sigle sindacali teramane di FIM, FIOM e WILM, che in presidio a Teramo hanno consegnato simbolicamente alla politica locale problematiche, rivendicazioni e richieste dei lavoratori metalmeccanici. Tante le vertenze aperte in provincia di Teramo, quali in particolare? In particolare ci sono ATR di Colonnella, Vecco di Martinsicuro e Celta di Tortoreto, che sono quelle che più di altre si stanno destando preoccupazioni, tra l'altro la Celta è ferma al MISE come altre 160 in Italia. Oltre queste poi però se ne sommano tante altre di aziende più piccole dove comunque si sentono grosse difficoltà. Quali sono i dati di queste difficoltà, di queste vertenze, di questa mancanza di lavoro e di stipendi? Una nostra stima parla di 750 posti di lavoro a rischio nei prossimi mesi. Purtroppo per come si stanno determinando alcune vertenze, quello è più importante appunto, temiamo che 750 sia un numero sottostimato, per cui questi sono i posti di lavoro che si stanno rischiando. Ma c'è anche il settore automotive con i 2.000 dipendenti che comunque dà segnali di preoccupazioni legati alla crisi complessiva del settore a livello globale. E voi a chi vi rivolgete? Ma è sempre più complicato trovare un interlocutore. Da un lato il tavolo delle crisi industriali in provincia è stato dismesso, dall'altro la regione sostanzialmente è latitante perché non si riesce ad avere un'interlocuzione concreta sulle tematiche, per cui facciamo fatica a trovare qualcuno che ci ascolti. Presenti anche le delegazioni delle storiche vertenze terramane, ATR di Colonnella, Celta di Tortoreto, Vecco di Martinsicuro, per ricordare che il settore dell'automotive nel Terramano occupa 2.000 addetti e che va sostenuto perché la crisi incombe.